Benissimo, andiamo a vedere assieme oggi al 24 maggio 2019 cosa è Builderall, anche perché è sempre in evoluzione e poi ci sarà la versione definitiva il 4 luglio 2019 con Builderall.3, dove verranno aggiunti ulteriori strumenti. Allora oggi Builderall è innanzitutto un costruttore drag e droga, quindi molto semplice, tutto si impara attraverso di video tutorial in lingua italiana, quindi si può partire completamente da zero e imparare veramente a utilizzare tutti questi fantastici strumenti grazie a video tutorial. Quindi è un costruttore innanzitutto di drag e droga pixel perfect, di siti internet, di blog responsive, cioè si possono costruire dei siti internet molto belli, da più semplici a quelli professionali come il blog, in maniera che siano perfettamente visibili anche da tablet e da smartphone, oltre che da pc. E questo è importante perché ormai oggi la maggior parte delle persone utilizza in pratica anche il proprio smartphone, il proprio cellulare, diciamo così. Poi, allo stesso tempo, è un creatore di app, quindi la possibilità di costruirsi, se uno avesse necessità, di costruirsi delle vere app, poi dopo una volta pronte da scaricare su Google Play per la tecnologia Android, oppure su Apple Store, se uno poi vuole farle utilizzare da coloro che hanno l'iPhone, diciamo. Poi il canvas, questo è veramente qualcosa di pazzesco, la possibilità di costruire dei veri fanne, fanne di vendita, questi sistemi tradotti dall'inglese, fanne all'italiano in buto. Un sistema che permette, logicamente, di trasformare un semplice visitatore verso qualsiasi link che noi proponiamo, prima in un contatto, un LED, di cui acquisiamo informazioni minime, che sono nome e cognome e indirizzo mail, queste sono informazioni minime, poi si possono acquisire numero di telefono, qualsiasi cosa. E attraverso poi questo contatto noi possiamo trasformarlo invece da contatto, diciamo, freddo a un contatto caldo, mandando delle varie informazioni, di solito con il mail marketing e il bot marketing, per poi riuscire a fare la vendita del prodotto e servizio che gli stiamo proponendo o dell'opportunità stessa, ok? Quindi il sistema Canvas è un sistema moderno che non c'è nessuno per non solo andare a creare diversi fanne, abbiamo già i template, ma per poterlo disegnare ancora prima di emetterlo live. Quindi un sistema che ci permette di costruire, visualizzare lo schema del lavoro che poi andremo a completare, ok? Poi è l'email marketing, uno dei migliori software al mondo, cioè il mail inbox, il software dell'email marketing di Liderot, non ha niente da invidiare a GetResponse, a Web, a MailChimp. Cioè, quindi in pratica è un vero sistema che permette non solo di costruire il form che si va a mettere nelle pagine di cattura da contatto, nel blog, nei siti, nel fan, quello che si vuole per catturare il nome e il nome di indirizzo email o altri dati, ma poi tutto il sistema che permette di mandare infinite email, sequenze di email, email che decidiamo di mandare invece in quel momento specifico, il follow up, seguire e pratica il proprio contatto, passare da una lista di contatti a un'altra, in base alle azioni che le persone compiono su un sito, su un pulsante, ok? Quindi un vero software professionale. Poi è la grafica, quindi la possibilità di andare a prendere delle immagini, a trasformarle, e veramente creare anche una presentazione composta, fatta di immagini. Quindi qualcosa veramente di straordinario e di molto, ripeto, semplice, ma professionale allo stesso tempo. Poi un software che riguarda i video, i video quelli con animazione, che oggi vanno molto di moda, nel senso che sono molto potenti, poter spiegare qualcosa attraverso un'animazione, o dei video fluttuanti, vuol dire dei video che ruotano intorno, ad esempio, che so, fai, decidi di metterti te in mostra e spieghi un argomento e dietro intanto ruotano dei video, no? E quindi poterli piazzare ovunque, ripeto, su blog, siti, internet, pagina, qualsiasi cosa. Poi tutto l'insieme di applicazioni veramente potenti, dalle notifiche del browser che pochi utilizzo, invece sono veramente, è un sistema veramente eccellente per rimanere in contatto con i propri lab, con i propri contatti, cioè, non so se ti è accaduto, a volte di poter, cioè, se tu visiti un sito, ti può essere stato richiesto di dire, vuoi rimanere aggiornato su tali argomenti? Clicca qua, clicchi qua, e si apre, no? Un piccolo pop-up dove tu dà l'autorizzazione a che? A mandarvi delle notifiche sul browser. La notifiche del browser è uno strumento potente, cioè, in pratica tu puoi, dopo che una persona ti ha dato l'autorizzazione, attraverso questo software, puoi mandargli dei messaggi che appariranno qua giù, o che è in forma di rettangolino, a prescindere lui, dove, in pratica, la persona sta navigando in quel momento, lui sta navigando su internet, dove gli pare, tu gli puoi mandare delle notifiche, dei messaggi, che lui riceve in tempo reale. Con il titolo, così, la fotografia, poi ci clicca e andrà, che so, a un link che tu avrai deciso in fase di costruzione del messaggio stesso, che gli apparirà, ripeto, sul browser, a prescindere dove stia navigando in quel momento, quindi qualcosa di veramente potente. Poi lo strumento SEO, è lo strumento che serve per ottimizzare l'indicizzazione, dove in pratica si va a collocare il tuo sito nell'indicizzazione di Google, quando si fa la ricerca sul motore di ricerca, mappa calore click, cioè poter vedere il visitatore in un sito, un blog, in qualsiasi realtà che tu hai costruito, dove passa maggior tempo, e questo è importante, per capire qual è, magari, la pagina di un sito dove, diciamo, si volge l'attenzione del visitatore. Poi, ti spiego le più importanti, perché ce ne sono tanti. Poi l'autopost è uno strumento fantastico, serve per postare in maniera, anzi, meglio ancora, diciamo, serve sia per postare su Facebook contenuti fino a 30 mesi in anticipo, cioè io posso decidere che ogni giorno sul Facebook mi appaia un post sulla mia fanpage in automatico, diciamo così, lo crea anche con 30 giorni di anticipo, in maniera che ho già tutta una sequenza di post in automatico, come me ne dimentico, no? E da qui poi parte anche un discorso relativamente collegato, il famoso chatbot, no? Mai sappiamo che l'email marketing è accompagnata anche dalla chatbot, cioè questo servizio, un assistente virtuale che va a, diciamo così, a interagire con i tuoi contatti su Facebook Messenger. Quindi anche qui la possibilità di costruire, diciamo, dei fanne, dei template, prima per poter chiappare, diciamo così, l'attenzione del visitatore, ok? Poi dopo di che invece contattarlo in maniera automatica su Facebook Messenger. Quindi questo è uno strumento eccezionale anche perché ha dimostrato che l'apertura di un messaggio su Messenger è assai molto più alta rispetto magari alle mail marketing, no? Anche se il mail marketing rimane sempre il top perché ti permette anche negli anni di poter avere le tue varie liste di contatti, però il bot veramente, almeno in fase iniziale di apertura di contenuti, cioè i messaggi che mandi si sfiorano al 100%. Poi magari ci sono state le persone che si annoiano e decidono di iscriversi dalla lista dei contatti della messaggeria su Facebook, che magari può essere un po' più entrante, no? Un po' più antipatico, diciamo così, comunicare su Facebook Messenger di un individuo che magari in quel momento è lì a divertirsi su Facebook. Però le mail marketing, ripeto, il chatbot, che tanto sono complesso entrambi in BuilderOS, sono il sistema migliore per trasformare un visitatore in contatto e poi scaldarlo, cioè dargli notizie, informazioni sempre più in base al prodotto, servizio, l'opportunità, alla consulare, tutto ciò che le vuoi proporre per poi arrivare alla venda, ok? Che è quello che ti interessa. Lo share lock è un altro strumento potentissimo che funziona sempre su Facebook, c'è la possibilità di dire, guarda caro, ho il mio contatto, se vuoi vedere un contenuto magari anche gratuito, inviti 5 amici, una volta che li hai invitati su Facebook, no? Si sblocca il mio contenuto gratuito per te. Quindi veramente un sistema virale per far sì che quello che stai proponendo su Facebook diventi virale, ok? E che venga visto da migliaia e migliaia di persone. E learning è un vero software pazzesco per se tu hai bisogno, ad esempio, di costruirti dei corsi, ok? Decidi un giorno di fare dei corsi in base alle tue competenze, hai questo strumento che ti permette di crearti una vera scuola online dove puoi avere i studenti, mettere contenuti, video, tutto quello che vuoi, ok? In maniera che le persone si devono iscrivere prima per far parte di questo tuo polso. Generatore di script, qui puoi mettere tutti gli script che vuoi, quindi gli script che so che ti servono per mettere i pixel, il famoso pixel di Facebook, per mettere, per apparire l'icona di Facebook e altre cose. Le social proof molto utilizzate, per esempio quando tu visiti un sito o una qualsiasi realtà online, magari ti viene chiesto appunto di comprare un prodotto o un servizio o di inserire i dati per avere informazioni, accanto c'è scritto Tizio Caio ha già compiuto la tua mia esplazione cinque minuti fa, un giorno fa, due giorni fa, un mese fa. Queste sono prove sociali reali, cioè ogni qualvolta che una persona poi veramente ha compiuto un'azione, quindi anche te, se poi compierai l'azione, cioè se il tuo visitatore, sorry, compierà l'azione di comprare un prodotto o un servizio, di inserire i dati nel tuo form, e diventerà anche una prova sociale. Cioè la prossima volta i prossimi visitatori al tuo link vedranno anche il suo nome fra quelli che hanno compiuto già la medesima azione. Questo è un rafforzativo per far sì che le persone siano ancora più propense a comprare l'azione. La roulette, anche questo è qualcosa che è veramente unico, la possibilità di far apparire tipo a mo' di roulette, dici guarda, se prima di lasciare la mia pagina decidi di cliccare su questa roulette, ok, questo gioco, diciamo così, ti regala un contenuto di alto valore. Anche questo è un altro sistema molto meglio. Poi il software su WhatsApp che permette appunto di collegare qualsiasi pagina, contenuto a WhatsApp in maniera anche da creare una sequenza di messaggi pazzesco attraverso WhatsApp, quindi creati un gruppo, una lista con sequenza di mail. Il video RAP è presente quando tu vedi dei video che oggi sopra il video c'è una scritta, sotto il video c'è un'altra scritta oppure sotto il video ci può apparire direttamente il link che le persone poi possono cliccare. Questo è un sistema veramente per rendere ancora più potente i video, no? Se tu fai un video, se tu decidi di fare anche una campagna a pagamento con i video, questo è un sistema, il video RAP è un sistema di editare il video in maniera che abbia, diciamo, maggior conversione. Lato risponditore di Instagram appunto è un sistema che ti permette di rispondere in automatico quando una persona diventa un nuovo follower sul tuo profilo di Instagram oppure di rispondere in maniera automatica a ogni volta che tu carichi una fotografia o un contenuto su Instagram. Il software può mandare gli SMS anche questo è veramente eccezionale se tu poi man mano che avrai tutti questi leati tutti questi contatti in base a quale strumento vai utilizzare puoi mandare anche degli SMS e questo è molto importante. Poi lo strumento di webinar che è in sviluppo c'è la possibilità di fare dei webinar online addirittura sia anche su Facebook che su YouTube possiamo vederci in faccia fino a 16 persone può evitare limitati come si dice ospiti e quindi veramente è uno strumento pazzesco. Io lo utilizzo anche molto per fare dei video invece registrati per promettere su delle mie pagine web l'avrei visto magari se ci hai fatto caso dove le persone rimangono incollate a quella pagina non possono cliccare magari che sono da fine invece su YouTube perché diciamo perdono la concentrazione. Poi il marketplace molto importante se tu hai un prodotto o servizio invece tuo di proprietà mi raccomando mettilo su marketplace è già complesso nella cifra cioè una realtà tipo Amazon dove tu hai un tuo spazio gratuito nel senso pagando la membership in questo caso per ora ancora di 45 euro al mese a breve invece sarà 85 euro quindi mi raccomando diventa come si chiama cliente builder quanto prima ok e la possibilità di avere un marketplace un tuo spazio dove tu puoi mettere il tuo prodotto i tuoi prodotti ok se sei proprietario o servizi e proporvi la tua cifra diciamo a tutta la comunità quindi internazionale italiana e builder tra l'altro a questo è già collegato anche la possibilità di creare invece un tuo sistema di affiliazione quindi di dire guarda a tutti voi carissimi colleghi builderò vi riconosco delle provisioni se andate a vendere il mio prodotto e servizio e c'è la possibilità di andare a creare in 448 un vero sistema di affiliazione in maniera che tu decidi la percentuale che poi andrà a pagare a coloro che ti vendono il tuo prodotto e servizio e il resto lo tieni tutti i video tutorial in lingua italiana ovviamente utilizzo ormai tutti i miei strumenti lavoro sceltosino fatto da parte della comunità nostra italiana ok ci siamo messi sempre a disposizione dell'azienda stessa ormai da da due anni poi logicamente un discorso di affiliazione tra l'altro oggi l'affiliazione è diventata gratuita proprio perché ormai builderò si è collocato come realtà a livello mondiale legale al 100% quindi per non avere storie oggi andare a proporre andare a vendere se uno fosse interessato gli strumenti stessi cioè questa unica piattaforma di vero è gratuito ok come qualsiasi altra affiliazione logicamente anche chi fa questo mistero come anche il mio comunque utilizza gli strumenti questo perché perché è meglio conoscere i servizi poi fra l'altro siccome siamo proprio nell'ambito degli strumenti per vendere io utilizzo tra l'altro proprio gli strumenti per andare a creare la pagina il sito qualsiasi cosa per andare proprio poi a proporre gli strumenti stessi quindi utilizzo builderò per andare a costruire queste famose realtà con tutto quello che vedete fino adesso quindi i sistemi per catturare i contatti le prove sociali come si chiama si mi sfuggiva il nome le notifiche sul browser ok quindi qualsiasi cosa anche io lo utilizzo per vendere proprio la piattaforma builderò quindi secondo me ha senso utilizzare però ripeto se uno volesse fare l'affigliazione gratuita ok non ha gli strumenti va a proporre la piattaforma secondo me uno deve essere bravo per vendere se non utilizza gli strumenti più che mai ok però ci sono persone che sono esperti di affiliazione quindi possono vendere builderò come vendono altri servizi o anche prodotti in affiliazione stessa fra l'altro builderò ripeto è come affiliazione una delle migliori perché lo sappiamo tutti non è in segreto che paga la prima mensilità su quello che paga il cliente a noi ce la dà appena al 100% poi dal secondo mese in poi ci paga il 30% il ricorrente mensile poi fra l'altro c'è la possibilità che se un cliente decide qualche volta di vendere la piattaforma builderò visto che appunto è anche gratuito fa dei clienti noi guardiamo anche il 30% sui clienti di secondo livello però questo è il discorso di affiliazione che assolutamente non deve diciamo così distorre l'attenzione da quello che è dimostrato fino ad adesso veramente builderò no? ok? poi una cosa molto importante allora adesso che ripeto il 24 marzo 2019 builderò che ormai da anni costa per l'utilizzo di tutti questi strumenti costa solo 45 euro al mese ok? poi invece costa 27 euro al mese se si toglie il funnel si toglie il discorso del marketplace se si toglie il discorso del webinar che è del camba queste cose vi costa 27 euro al mese poi 8,90 addirittura se si vuole costruire un blog o un sito avere sempre l'email marketing fino a mille contatti gestibili ok? poi compreso appunto il fatto che si possono collegare per il discorso del piano da quello più alto a 45 euro anche tutti i domini che vogliamo costruirsi limitati sotto domini costruirsi limitate email professionali l'hosting compreso e dicevo oggi che è il 24 maggio costa 45 euro il piano quello completo però dal 4 luglio che sarà il lancio definitivo della nuova versione punto 3 questo sarà 85 euro per questo motivo insomma io ti consiglio di attivarti adesso perché se diventi cliente a 45 euro da 4 luglio quando ci saranno tutti i nuovi aggiornamenti ora te li dico velocissimamente tu non andrai a pagare gli 85 ma andrai a pagare sempre a vita 45 euro finché vorrai rimanere cliente libero lo stesso vale per noi clienti già allora il discorso è questo da 4 luglio fra l'altro ci saranno qualcosa di veramente eccezionale come la possibilità di costruirsi un nuovo software di costruirsi delle diciamo delle riviste online proprio spogliabili online e quindi tu potrai costruirsi il tuo magazine come si dice in inglese la tua rivista online se ne avrai bisogno il tuo il tuo sì diciamo la rivista da mettere ad esempio un vento su caricare su amazon quello che vuoi se tu hai necessità di costruire un tuo libro un tuo book ecco mi spuggeva la parola lo potrai fare grazie a uno strumento quindi veramente qualcosa di eccezionale poi il canva del funnel sarà definitivo quindi la possibilità di costruire questi funnel non solo come si fa oggi no che ti crei i vari passi anche una pagina la seconda pagina di un funnel ma di poterlo ben prima sfrutturare disegnarlo in maniera di avere anche te davanti agli occhi a posto di scriverlo su un foglio di averlo tutto schematizzato andare a aprire attraverso il software proprio ogni finestrina e andare a dire che cosa fai da un passaggio all'altro mentre costruisci il funnel stesso qualcosa di veramente fantastico poi avremo finalmente l'e-commerce molti ci lo chiedevano in accordo con Magento che è la più grande azienda la più grande azienda al mondo per quanto riguarda la costruzione di e-commerce abbiamo fatto un accordo quindi 85 euro al mese e se invece tu paghi oggi 45 euro l'avrai anche in automatico ripeto e l'e-commerce con l'accordo con Magento quindi e-commerce che ci viene dato in questo caso non è di proprietà di Builderall ma ci viene dato diciamo così a noi ok d'accordo con questa azienda quindi la possibilità di avere lo strumento per costruire l'e-commerce migliore al mondo con tutte quelle caratteristiche di pagamento di carrello di mettere tutti i prodotti che vogliamo grazie all'accordo con Magento stesso poi c'è il discorso che anche la piattaforma il software per costruirsi le applicazioni anche quello sarà migliorato e sempre anche quello è con l'accordo invece di Sibere una migliore azienda per quanto riguarda la costruzione delle applicazioni e poi il lancio definitivo perché cambierà di nuovo anche la struttura il back office di Builderall e sarà qualcosa di veramente straordinario e poi la possibilità di costruire finalmente delle affiliazioni però esterne cioè fino adesso ripeto c'è il marketplace dove poi vendere un prodotto servizio di proprietà e poi darlo anche in affiliazione però a membri di Builderall la 4 luglio poi invece sarà complessa una vera affiliazione cioè potrai costruire delle affiliazioni ok avrai un prodotto un servizio un'opportunità ok c'è il network oppure quello che ti pare e ti potrai costruire un vero piano di affiliazione esterna cioè poterlo dare a chiunque tu vuole quindi fa diventare affiliato di te qualsiasi persona in maniera che ti vende il proprio servizio attraverso un piano vero e proprio di affiliazione ok poi tante altre sorprese perché Builderall è sempre una sorpresa quindi ti ho voluto riassumere oggi che cosa rappresenta Builderall comprare con un'unica piattaforma un'unica piattaforma un unico sito che ingloba in esso i migliori strumenti si chiamano di marketing digital cioè software e applicazioni che permettono di andare a costruire tutte quelle realtà online che per me che ti servono oggi sono indispensabili se vuoi vendere un qualsiasi prodotto o un servizio un qualsiasi inizio di mercato e se si collochi appunto online quindi che tu sia un libero professionista un commerciante un consulente un networker una persona che vende in affiliazione insomma se tu hai da vendere oggi online qualsiasi cosa sinceramente qualsiasi cosa Builderall è la migliore soluzione perché è tutta inglobata in un'unica piattaforma in un unico sito internet quindi eviti di andare a che so in un'azienda che ti vende il dominio in un'azienda che ti vende ti dà l'hosting in un'azienda che ti dà il costruttore di pagina in un'azienda che ti offre il marketing un'azienda che ti offre gli altri servizi e tutti inglobati in un'unica piattaforma che appunto quindi il top per questo motivo per l'ultimo volta ti ribadisco che per il momento ancora per poco tempo se utilizzare tutti questi strumenti pagherai soltanto 45 euro al mese o andiamo sempre pagato noi però dattene una mossa come si dice perché poi dal 4 luglio in maniera definitiva con il lancio della versione video.3 la membership che riguarda tutti questi fantastici strumenti andrà in maniera definitiva 85 euro che è giusto perché la cifra di 45 euro ormai da anni era troppo bassa sinceramente poi anche rapportata a pochi competitor che ci sono sinceramente tipo che so che mi fanno che c'ha molti meno di tutti questi strumenti comunque ci vogliono 300 dollari 300 mi sembra 300 sì 350 dollari al mese e noi saremo 85 euro sempre da punto di vista prezzo rapporto prezzo servizi diciamo offerti sempre il top ok quindi qua sotto il video direttamente sul mio canale youtube trovi anche il link per poter vedere ti riassumo di nuovo tutti questi fantastici strumenti e per iniziare fra l'altro anche la prova se vuoi gratuita dei primi sette giorni di questi fantastici strumenti di marketing appunto inglobati in video ok è tutto buona scelta